Ciao a tutti, siamo qua per il primo approccio con il nuovo casco integrare leggero per utilizzi Enduro e Parkriding di Fox. Il modello noto agli appassionati, il ProFrame, si evolve e ora si chiama ProFrame RS. Ma cosa è cambiato? Per prima cosa vengono risolti i difetti del ProFrame, quindi la visera fissa e l'assenza della regolazione sulla nuca. E' vero che erano presenti diverse imbottiture per adattare la vestibilità a ogni testa, quindi sulla fronte, sulla nuca e i guanciali, ma ora la siccella si è davvero alzata. Infatti Fox ha integrato il sistema BOA a 360 gradi, ma non solo, ci sono le imbottiture di due diversi spessori, quindi davvero ora è possibile cucire questo ProFrame RS su di sé. La visera è regolabile in altezza su tre posizioni. Fox ha lavorato anche su altri dettagli importanti. Se il look può sembrare invariato, in realtà ci sono diversi miglioramenti. Come prima cosa, la struttura è stata leggermente alleggerita, migliorata la ventilazione, quindi il flusso dell'aria è più efficace in entrata e in uscita, ma ci sono anche meno zone di contatto tra il casco e la testa, quindi la termoregolazione è più efficiente. Le imbottiture sono sempre rimovibili, lavabili, antiodore e antimicrobiche. Ma non solo. Se prima c'era il sistema MIPS, ora si arriva al MIPS Integra Split. Cosa significa? La costruzione è sempre con guscio esterno in policarbonato e calotta interna mista EPS e PP, a diversa delle zone, in modo da distribuire in modo efficace e sicuro le forze d'impatto. MIPS Integra Split significa che non esiste più la calotta MIPS al di sotto delle imbottiture. Sono le stesse imbottiture che funzionano per dissipare gli urti rotazionali. Queste sono applicate a una calotta interna che non è solidale con il guscio del casco, ma è fissata su degli snodi che permettono appunto questa di ruotare il necessario per la dissipazione delle forze rotazionali d'impatto. Altri dettagli importanti sono il cinturino sotto gola con chiusura magnetica feedlock, un altro accessorio in dotazione, importante per i biker a cui piace fare delle riprese on board sulla bici, il supporto GoPro da montare al di sotto della visiera. Tre sono le taglie disponibili, dalla small alla large. Il prezzo è di 319 euro al pubblico. Il peso nella nostra taglia M è di 850 grammi rilevati alla bilancia. Noi abbiamo ricevuto il Fox Pro Frame RS in una bellissima colorazione black camo. Questo è il primo giro che facciamo con il nuovo casco integrale leggero per gli utilizzi enduro park riding del noto marco americano. State sintonizzati per tutti gli aggiornamenti e poi per il test approfondito. Ciao a tutti! Grazie a tutti!